Ci sono secondo me due giocatori in questa Serie A che hanno fatto un miglioramento veramente significativo, veramente alto. Uno è Barella, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. L'altro è Federico Chiesa, che per la Juventus è stato un grande investimento sul futuro, ma è già un giocatore determinante. In momenti pesanti della stagione è stato lui ad emergere con i suoi gol, ma anche con la sua mentalità. E soprattutto, in ottica europeo, quindi in ottica nazionale, può diventare un valore determinante per la squadra di Mancini. Su che basi Chiesa ha fatto il suo grande miglioramento? A livello tecnico, indubbiamente, perché il salto in alto in un club del genere significava prendersi delle responsabilità maggiori, che si è assunto il giocatore arrivando ad alzare l'asticella sul numero dei gol, a migliorare e diventare più continuo sul piano degli assist, ma anche ad adattarsi a fare cose diverse in zone diverse del campo, sempre piuttosto bene. Soprattutto il suo passo pesante e determinante, anche per individuare quelli che possono essere gli orizzonti veramente di livello del giocatore, è arrivato sul piano mentale, perché Chiesa si è fatto trovare subito pronto a questo tipo di scenario. Parlando, lo ha fatto anche dopo la partita col Porto, ma soprattutto mettendo sul campo quell'intensità, quella maturità e anche quello spirito che prima, ai tempi della Fiorentina, erano stati, diciamo, un punto segnalato come da migliorare in un'ottica futura di un giocatore importante. Perché vi dico che nei piani della nazionale Chiesa può essere un giocatore dalla valenza molto significativa? Perché il calcio di Mancini è un calcio moderno, è un calcio fluido, è un calcio dove bisogna adattarsi a posizionamenti e a compiti differenti, specialmente in quello che abbiamo visto più volte essere un sistema di gioco abbastanza asimmetrico, dove a sinistra spinge il terzino e l'esterno d'attacco, in signe, viene dentro per sfruttare il destro. Sulla fascia destra invece serve un elemento che sappia tenerla tutta, ed è l'habitat di Chiesa, sappia dare un contributo offensivo concreto, goal e assist, e Chiesa in questa stagione li ha dati. Per cui, in quella zona di campo, tanti elementi possibili non ne abbiamo come nazionale italiana. Chiesa può diventare un giocatore chiave per l'europeo, anche perché, ripeto, la dimostrazione l'ha già data in questa stagione. Il passo avanti è stato fatto, l'orizzonte è quello di un giocatore che può essere decisivo per la Juve e per la nazionale italiana, andando avanti così.